4MAQ Tutte in una stessa serata alle 4 del pomeriggio Fino a mezzanotte Avremo ospiti speciali da tutta la Sardegna Per quanto riguarda la breakdance L'emcing, il writing, il djing e il beatboxing E ospiti speciali da Torino Ensi dei One Mic e DJ Double S Non puoi mancare venerdì 28 agosto 2009 Al parco di Badimanna a Sasse di Vrate 4MAQ 4MAQ 4MAQ